È stato un debutto coi fiocchi, quello di sabato sera a Gualdo Tadino per la Notte Blu, il Medioevo nella città della Cuccagna, che ha animato il centro storico grazie all'iniziativa promossa dall'ente Giochi delle Porte, che nell'occasione ha celebrato anche i suoi 40 anni di vita, premiando chi ha fatto la storia del palio in onore di San Michele Arcangelo. Stimate tra le 4 e le 5.000 presenze, nei diversi punti di accesso alle vie e piazze, addobbate a tema medievale ed animate da scene di vita quotidiana dell'epoca, dove si poteva anche acquistare il quattrino, il ticket per la cena itinerante, che prevedeva quattro consumazioni nelle rispettive quattro taverne della città. La cerimonia di apertura, visto la presenza del vice sindaco di Gualdo Tadino Gloria Sabbatini, insieme all'assessore alla cultura Emanuela Venturi, al presidente dell'ente Giochi delle Porte Paolo Campioni e di quattro priori, tra i quali Roberto Cambiotti, gonfaloniere dei giochi. È una serata importante per la nostra città, evidenziato il vice sindaco Gloria Sabbatini, sia perché è l'occasione per godere della sua storia, per visitare le sue interessanti mostre e musei, ma soprattutto per celebrare i 40 anni della festa di Gualdo, i giochi delle porte che non solo a settembre ma tutto l'anno, tiene impegnate tantissime persone che lavorano ogni anno per la sua riuscita. Ringraziamenti all'operato dei tanti volontari che fanno parte del mondo dei portaioli sono giunti dal presidente dell'ente Giochi Campioni e dal gonfaloniere Cambiotti, che ha aggiunto Abbiamo le forze per poter fare tanto per la città, ma serve una cabina di regia che sabbia ben coniugare tutte le varie energie cittadine. Allo scoccare della mezzanotte, spazio alle emozioni con la premiazione di tutti, i protagonisti di 40 anni di Giochi e quindi giocoglieri, priori e priori di Porta San Benedetto, Porta San Facondino, Porta San Martino e Porta San Donato. A concludere il tutto uno spettacolo pirotecnico che ha incantato la piazza. Particolari riconoscimenti al maestro Sesto Temperelli che con le sue 86 primavere continua a guidare il gruppo delle chiarine degli sbandieratori e musici della città di Gualdo allo storico giudice dei giochi Antonio Frillici, premiata infine per la miglior vetrina alla parrucchiera Marta Mancini. Il presidente dell'ente Giochi Paolo Campioni afferma convinto ed inorgoglito dalla riuscita dell'evento che due sono stati gli obiettivi colti dall'ente Giochi nell'organizzazione dell'evento, dare dignità e risalto ai 40 anni di storia e regalare alla città un evento eccezionale.